Per bombe di Savona si intende una serie di attentati che hanno luogo nel territorio della città savonese in zone limitrofe. Si concentrano nel 74-75, per essere più precisi. Abbiamo due bombe il 30 aprile 74 presso la casa del senatore Varaldo, che era sita in prossimità del vecchio Astor, quello che adesso è Largo Varaldo, in via Paleocapa. Abbiamo un altro attentato il 9 agosto, 74, alla centrale Enel di Vado. Una macchina si ferma sull'autostrada, vengono lanciati gli ordini che per fortuna esplodono a una distanza dentro la centrale, ma non là dove potevano creare un blackout che poteva avere conseguenze importanti. Poi abbiamo, inizia il novembre, nel novembre, stiamo parlando dal 9 novembre al 23 novembre, abbiamo una decina di attentati che vanno a colpire la città, il cuore della città. Viene prima attentato al Palazzo della Provincia, una bomba viene posta nel locale caldaie di tale palazzo. Abbiamo il 9 novembre, il 12 novembre abbiamo l'attentato alle scuole medie di Guido Bono, in occasione di una riunione di docenti e genitori e studenti che stanno discutendo sui decreti delegati scolastici e saranno di lì a poco approvati della loro possibile applicazione. Scoppio un ordigno davanti alle scuole Guido Bono, ma per fortuna la riunione si è protratta per un periodo, si è protratta in modo tale che non abbiamo vittime. Abbiamo l'attentato alla linea ferroviaria Savona-Torino, viene posto un ordigno in prossimità di un cavalcavia presso santuario, per fortuna e in circostanze assolutamente casuali dei cittadini che abitano in prossimità di quei luoghi si accorgono che qualcosa non va, cioè che esplose un ordigno che ha distrutto i binari e riescono, correndo verso un treno, a fermarlo, quindi a evitare un deragliamento che avrebbe comportato sicuramente vittime e danni. Poi lo stesso 16 novembre, quindi nella stessa giornata, viene posto un ordigno in via dello Sperone presso una caserma della Guardia di Finanza. Questo ordigno causerà dei feriti, due finanzieri che si accorgono di questo anomalo pacco fuori dal cancello, si avvicinano e vengono investiti all'esplosione in maniera non gravissima, però anche questa è una pura casualità. In quei mesi mia madre mi diceva non andare a giocare a pallone giù in piazza, perché comunque si tentava di stare tutti uniti in casa e esporsi il meno possibile ai rischi che in quel mese poteva rappresentare anche andare a comprare il pane, perché, ripetiamo, le bombe scoppiavano ovunque e in maniera assolutamente non prevedibile. Di tutto questo periodo, di questa città martoriata, assediata, rimane una piccola stele che ricorda la vittima, l'unica vittima delle bombe di Savona, Fannì Dallari e basta. Questa stela è vicino all'asilo e alle piramidi e basta, non abbiamo null'altro che ricordi tutto quel periodo. Il 23 novembre abbiamo due ordigni, uno sull'autostrada Savona-Torino, ma non fa vittime, viene posto l'ordigno vicino a un guardrail che esplode e invade la carreggiata, che però in quel momento era vuota, e un'altra presso la stazione Carabinieri-Varazzo. Gli ultimi due ordigni è il 75, abbiamo quello del 24 febbraio in Via Cava, Via Cava poi, per chiarirci, era il retro, è il retro del Palazzo del Governo. Viene posto, pare che l'ordigno dovesse essere posto all'interno del Palazzo del Governo, ma la porta che ancora oggi c'è nel retro di tale palazzo è inaccessibile, quindi viene abbandonato l'ordigno nel marciapiede di fronte, dei bambini si avvicinano, l'ordigno esplode e vengono feriti. E per fortuna però non abbiamo vittime, l'ultimo sarà, come si era cominciato alla centrale di Vado Enel, sarà il traliccio Enel della Madonna degli Angeli, il traliccio sarà distrutto. E in quel momento la serie delle bombe di Savona finisce, quindi questa serie di una dozzina di bombe concentrate in pochissimi mesi. La città di Savona regisce a queste bombe all'inizio con sgomento. Le ronde cosiddette, famose per noi savonesi, le ronde sul territorio savonese, iniziano il 16 novembre. Sono organizzazioni spontanee. A quel tempo esistevano le strutture che non avevano una definizione precisa, non erano istituzionali, erano le strutture di una città che stava cambiando, si stava complessificando, aveva delle periferie nuove, come quelle dell'Oltrele Timbro, Piazzale Moroni, periferie che accoglievano cittadini che spesso venivano da altre parti d'Italia e creavano nuovi quartieri e nuove dimensioni. Queste dimensioni si danno a questa organizzazione, i consigli di quartieri. I consigli di quartieri decidono, quindi dopo il quarto attentato del novembre, di iniziare a presidiare il territorio. Io a quei tempi avevo 12 anni e mi ricordo che comunque le mie prime notti a sola casa erano quelle di quel novembre lì, perché comunque tutti i genitori degli studenti, degli alunni, si davano il turno, mi ricordo che mettevano una fascia bianca stampato sopra il timbro del consiglio di quartiere e facevano la ronda, cioè giravano intorno all'istituto del proprio figlio. Poi, ho saputo, gli operai controllavano le loro fabbriche, dobbiamo non dimenticare che siamo nel 1984, un periodo in cui comunque c'era anche un'organizzazione politico-rizzontale. Ci sono testimonianze sui giornali dell'epoca, ad esempio, gli studenti dei collettivi dello scientifico sono fra i primi a organizzare delle ronde per controllare il proprio istituto. E' una mobilitazione importante. Poi si concretizzerà, dopo l'attentato del 20 novembre, nelle manifestazioni di piazza, in cui i sindacati, le fabbriche, gli operai si riversano in piazza per protestare di quello che sta accadendo sul territorio e di come sia strano che non si riesca a far fronte. Quindi abbiamo appunto una parte che è questa esperienza, che forse è anche molto singolare, di queste ronde che si creano, e poi queste esperienze di mobilitazione dei cittadini imponente, manifestazioni che poi non si erano forse mai viste dal dopoguerra, non si vedranno più, perché erano veramente manifestazioni di organizzazioni sindacali che avevano un'importanza assoluta sul territorio, una componente operaia fortissima, un movimento anche di gruppi extraparlamentari, dicevamo i collettivi dello scientifico che comunque sia si auto-organizzano la difesa del proprio istituto. Quindi erano anni diversi le comobilitazioni che su questo trovano un momento in cui tutti si ritrovano insieme in piazza. A livello politico si crea un comitato antifascista che vede al proprio interno tutti i partiti di quello che un tempo si chiamava arco costituzionale, quindi tutti i partiti ad esclusione del movimento sociale italiano, ma a Savona anche ad esclusione del partito liberale italiano che non partecipa a tale movimento. Quindi per ricordare vecchi mammut che però fan parte della storia, stiamo parlando di democrazia cristiana, partito comunista, partito socialista, socialdemocratico, repubblicano, componenti che spesso si trovavano su posizioni diverse, ma la cittadinanza secondo noi costringe i partiti a ritrovarsi sotto un unico palco a protestare contro questa situazione. È stata l'unica città che è stata bombardata in Europa dopo il 1945, che di bombardamento si tratta. Quindi è stato un tentativo di usare e di sperimentare un modello nuovo di aggressione della realtà. Perché dico questo? Perché stiamo parlando del 1974, quindi siamo all'interno di una nazione come l'Italia, una nazione comunque sapremo decenni dopo di confine, di confine e di scontro e incontro dei vari interessi e superpotenze che dominano il mondo in quegli anni. Poi scopriremo che in Italia c'era Gladio, c'erano gli antigladi e quant'altro. Quindi l'Italia era un luogo della crisi, della crisi internazionale. In Italia cosa succede in quegli anni? Si parte da Piazza Fontana nel 1969, con tutto quello che comporta. E poi stiamo parlando del 1974. Il 1974 non dimentichiamoci che il 28 maggio 1974 stiamo parlando di Piazza della Loggia, quindi la strage di Brescia, e il 4 agosto 1974 la strage dell'Italicus. Abbiamo quindi un atto ufficiale che indica il fatto che l'inchiesta sulle bombe di Savo non sono state fatte in maniera adeguata. Questo non fare delle indagini subito in maniera adeguata porterà al fatto che si creerà una situazione tale per cui sarà facile per i giudici, e si occuperanno stimolati dalla cittadinanza di aprire l'inchiesta, riusciranno sempre ad archiviare, perché l'inchiesta fu impostata fin da subito in modo superficiale, sbagliato e tale da poter non individuare né responsabili né tantomeno responsabilità più alte. È importante porre attenzione su un documento che circola ma che non è mai stato pubblicato ufficialmente e di cui pensiamo di curare la pubblicazione in occasione del 25 aprile di quest'anno 2013, perché ricordiamo che appunto nel 2014 saranno il quarantennale le bombe, ma quest'anno sono 30 anni che l'Avvocato Trivelloni consegna un dossier sulle bombe di Savona e secondo noi è particolarmente interessante. Questo dossier fu commulsionato dall'Ampi provinciale di Savona, Trivelloni fece una ricerca in relazione alle bombe di Savona su quello che erano i macro contesti in cui queste bombe si inseriscono. Leardo metterà su dei centri di azione democratica che si chiamano stranamente, hanno una denominazione che ricorda il piano di azione democratica scritto da Gelli, questi centri non si sa bene che funzioni abbiano fatto, perché Trivelloni fa notare come abbiano uno statuto molto neutro di associazione culturale, ma di fatto non abbiano mai svolto azioni pubbliche sul territorio. Certo è che intorno a questi centri che hanno la propria sede nei centri di Savona, stiamo parlando di Piazza Diaz, Via Mistangelo e Santa Rita, si riuniscono e si incrociano strani personaggi che nel mondo della P2 e quindi del loro collegamento con le versioni nera hanno una certa importanza. C'era bisogno di trovare un luogo in cui sperimentare le strategie nuove rispetto alla strategia dell'attenzione. Perché è stata scelta Savona? Probabilmente perché Savona aveva delle caratteristiche particolari. Potrebbe essere che a Savona ci fosse una struttura legata alla P2, già più formata che in altri posti. Può darsi che si sapesse che gli organi della magistratura inquirente potessero essere poco attenti allo svolgimento dell'indagine. Si continua a essere sorpresi sul fatto che a Savona non si valorizzino delle cose, anche quelle uniche. Ripetiamo, è stata unica la strategia di bombardare una città, come è successo nel novembre 1974, però oggettivamente è stata anche unica la reazione sia istituzionale sia, come dicevamo, orizzontale dei cittadini nella difesa del proprio territorio. Una difesa pacifica, senza nessun eccesso, però una difesa ferma, dura e conseguente. L'episodio della mobilitazione nella città di Savona nel 1974 è un episodio importante, unico, forse unico a livello europeo. Non so se ci sono altre città che si danno spontaneamente un'organizzazione di controllo del territorio così orizzontale e così precisa e così attenta alla divisione della mappa territoriale per tentare di difendere luoghi di lavoro, luoghi di istruzioni e luoghi di produzione di cultura. Tutto ciò non ha testimonianza. Savona appare una città laboratoria, una città laboratoria della strategia di attenzione, una città laboratoria per i cittadini che elaborano strategie di controllo del territorio e temiamo anche una città laboratoria per quanto riguarda la rimozione della storia recente.